Quello che viene qua davanti è il sole, sta salendo sempre di più perché sta affrontando l'ottantasettesimo giorno come noi all'interno della sopravvivenza sopra un singolo blocco di Minecraft Pokémon per 100 giorni. Quindi campioncini e caro buon lupetto, benvenuti e benvenuti in questo nuovo video della vostra serie di Pokémon che vi sta piacendo tantissimo, quindi partiamo subito lasciando un mi piace. In questo episodio caro buon lupetto andremo in fondo sulla piramide d'oro alla ricerca alla sfida di Steffi il Magnifico, il primo youtuber nella sua versione leggendaria, ma l'episodio non può partire con un mega Pokémon. Infatti qua davanti abbiamo un lopuni boss raro che è boss tanto forte quanto l'è stato Kendall nello scorso episodio. Direi che a livello 104 possiamo tecnicamente eliminarlo, io ho livellato ancora un pochino i miei Pokémon, spero che mi troppi qualche altra caramella rara ma purtroppo così non è stato. Tutto quanto adesso lo droppiamo e cosa faremo in questo video? Oltre che star qua e continuare a scavare ininterrottamente questo diamine di blocco che ogni tanto mi compare con le casse, mi droppa. Una Golden Apple OP e una caramella XP Candy XL e tanta roba. Dobbiamo continuare a roppere questo blocco, ma non solo. Voglio livellare la mia squadra ma voglio anche eliminare un Mewtwo all'interno del mio team perché un doppio Mewtwo non ha completamente logica. Me l'avete scritto anche nei commenti dello scorso episodio, quindi lo andremo a spostare e mi tengo il mio Mewtwo Shadow. Ma non solo, essendo che appunto come vi dicevo ho migliorato il mio team livellandolo e portandolo quasi tutti quanti a livello 95, oggi quel quasi lo eliminiamo completamente, quindi voglio portare tutti quanti i miei Pokémon appunto a questo livello, il numero 95, quasi a livello 100. E se volete che raggiungiamo il livello 100 dovete spaccare questo video di mi piace, dobbiamo superare i 1000 mi piace. Forza, quindi premete quel tastino. Il prossimo episodio sarà in compagnia di un youtuber, quindi sarete voi a deciderlo e già ho visto un po' nei commenti chi vorreste vedere. Ma se volete continuare a commentare con chi vorreste che vi inviti ragazzi, ditemelo qua sotto che lo faccio molto volentieri. Blastoise a livello 95 l'ha raggiunto, anche se era un po' buggato e spariva. Poi abbiamo Charizard Shiny che è già a 93. E anche il nostro starter preferito ha raggiunto il livello 95. Qual è il vostro Pokémon preferito in generale? Scrivetelo nei commenti con l'hashtag sono un campione che vi lascio un cuoricino e vi faccio comparire come questi tre campioncini all'interno del mio prossimo video. Sheptal ha bisogno solo di una caramella rara, gliela do molto molto volentieri. Mewtwo di tre caramelle rare per raggiungere il livello 95. Lui dovrebbe essere già potenziato e già bello che è forte dove l'ho lanciato nel vuoto. Poi c'è il mio Pokémon preferito Dragonite che è a 93. Anche lui a 95 con 2, ci manca solamente Ghiratina che parte da un livello molto basso a 90. Quindi gliele servono ben 5, gliele diamo tutte quante. In questo modo tutto quanto il nostro team ha raggiunto questo livello. Quindi 95, 95, 95, 95 e tutti quanti a 95. Ottimo! Ora, quella cosa più interessante che vorrei fare è andare a sfidare subitissimo Steph. Ma soprattutto, nella scorsa puntata avevamo visto che all'isola di Steph c'era anche un Charizard Mega leggendario che ci attendeva. Mi piacerebbe sfidarlo e vincere la battaglia contro lui perché voglio sbloccare la Mega Pietra del Charizard. Perché un Pokémon Mega come Charizard potrebbe essere tanto utile all'interno del nostro team. E dato che è una Mega Pietra sua io ancora non ce l'ho, la voglio assolutamente. Quindi adesso risaliamo da questo lato. E spero che ci sia lì ad attenerci ancora al Charizard. È ancora lì! Ottimo! A parte che lì in fondo c'è ancora l'Eveltal Shiny e devo ancora spiegare il motivo. Ma ancora ci pensiamo in un secondo momento. Quel Charizard team in realtà ci sta ancora aspettando per la sfida. Quindi a noi ci va molto bene questa cosa. Perché almeno lo possiamo sfidare e sbloccare la sua Mega Pietra. Io vado direttamente con Blastoise. Rimanendo a questo lato della battaglia. Lui parte al 115. La battaglia che ci attenderà comunque sarà difficilissima contro Steph a livello leggendario. Perché è fortissimo un Pokémon al 115. Guardate quanto ci ha tolto con una singola mossa. Sarà molto tosta. Di conseguenza bisogna tutte quante le mie cure che devo andare a riprendere a casa. L'importante è che questo Charizard non si lanci nel vuoto. Ti prego Charizard non farlo. Rimani lì per favore. Non cadere nel vuoto. Ti supplico. Ti prego mi tu. No non devi lanciarlo nel vuoto. Aspettiamo che magari risalga. Ok è risalito. Molto bene. Rivado con un altro Psy Strike però non ce l'ho fatta. Mi rimane il Ghiratina da poter utilizzare. Che con Uncent Power potrebbe fare l'ultimo colpo di grazia. Vediamo. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Tutte quante le cure che possiamo avere Le più forti che abbiamo Sta calando anche il giorno Quindi entreremo nel giorno numero 88 Quasi al 90 E dato che le battaglie di notte ne facciamo Do la mia mega pietra Charizard E proseguo perché dobbiamo continuare a scavare Perché per sbloccare i dungeon Dobbiamo proseguire ad andare avanti Un'altra caramella Lara Che mi prendo molto volentieri In questo modo posso poi livellare i miei Pokémon E renderli ancora più forti Ma intanto io scavo Fino a quando non arriva là in fondo il giorno O più o meno In realtà Deve arrivare da quel lato Se sono è nuovo Quindi scaviamo Ed eccolo là in fondo Si attende con due bispo Alla lato esattamente come Kendal Ed eccolo qua Boss Versione leggendaria Io parto con il mio Pokémon più forte Che è Io volevo partire con Mewtwo Però fermi un attimo Ci fa partire con Gazzlord Shiny E Gyarados Nella sua versione speciale Contro il mio Charizard E Sheptile Battaglia tosta ragazzi Abbiamo dei Pokémon fortissimi Davanti ai nostri occhi E devo studiarmela per bene Vado di Dragon Claw Su Gazzlord E poi vado Di una mossa di tipo erba Sul Gyarados Dovremmo essere molto efficaci Qualcosa L'abbiamo fatto Ne l'abbiamo fatto più o meno Poco in realtà Di danno Sheptile ha preso tantissimo Invece Dovremmo essere più efficaci Ma noi togliamo pochissimo Dannazione Tosta Ve l'ho detto Sarà una battaglia molto difficile E Dovremmo vedere cosa Possiamo ottenere Da quello che Riusciamo a raccimare Dai nostri Pokémon Sheptile Ha preso un po' di vita Dal Gyarados Ma ha perso Completamente tutto quanto Trash Ha tolto tantissimo Di Charizard E noi abbiamo preso Sheptile Abbiamo tolto un po' di vita Garzor e Gyarados Ma Si preannuncia Una battaglia Tostissima Metti in capo Il mio Dragonite Che contro il Gyarados Può essere molto efficace Tramite Oltraggio E mi conviene a questo punto Andare direttamente Solo di oltraggio Così con la speranza Di far tanto danno Però Charizard L'abbiamo perso completamente Vado a questo punto Col Giratina Un Pokémon leggendario Molto potente Che può dare molto fastidio A loro Adesso Gyarados Offer Ancent Power Quindi siamo super efficaci Intanto il nostro oltraggio Continuerà a colpire Spero infatti Gyarados Ha preso tanto danno Messo in campo Di Alga Nella sua versione Origine Shiny In questo caso Con Earth Power Siamo super efficaci Sul Di Alga E posso andare ancora Di oltraggio Contro Gazzlord Che però Non ha colpito Gazzlord Ma solamente Di Alga Stesso Ma perché questa cosa Voglio andare di oltraggio E fare un sacco di danno Ma non posso Ok finalmente Mi hanno colpito anche Gazzlord L'abbiamo eliminato Blaziken Urca Calma tutti Perché Dragonite Sta dimostrando Troppo 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 potente Quindi devo per forza Curarlo Oltraggio Ha ancora colpito Di Alga Va bene comunque Il turno di Ghiratina Lo utilizzo per Ancora curare Il Dragonite Che è troppo importante Per noi Quindi Dragonite Ti prego resisti Ti prego Dragonite E ancora con oltraggio Ha colpito Di Alga Che però Dà la possibilità Al nostro staff Di mettere in campo Lugia Shadow Shiny È bellissimo Questa è la mia versione Lugia preferita Anche il mio Leggendario preferito Insieme a qualche altro Leggendario Ma non ne ho tanti Questo Lugia È bellissimo Io devo continuare A curare il mio Dragonite Perché sta dimostrando Comunque un Pokémon Utilissimo E vado di Thunder Wave Sul Lugia Così lo paralizziamo E lo teniamo fermo Per un po' Non l'abbiamo paralizzato Mi ha missato il colpo Blaziken Posso offrire le mosse Tipo terra Quindi gliene lancio Benissimo una E invece Contro Lugia A sto punto Provo ancora oltraggio Che è una mossa Che comunque fa tantissimo danno Credo che oltraggio In realtà colpisca un po' a caso Ed essendo Lugia A questo punto volante Vado a colpire Lugia Con una mossa di tipo roccia Andiamo ancora Abbiamo tolto un terzo di vita Blaziken è stato eliminato Xurkitree Quindi era un misto tra Super Ultra creature Scusatemi Shiny E Leggendari In una loro versione speciale Molto bella questa battaglia Non solo leggendari Perché c'era anche Blaziken e Geridos Xurkitree Un Pokémon tipo elettro Soffre tantissimo Le mosse di tipo roccia Di tipo terra Scusate Quindi abbiamo fatto tantissimo danno Per essere 20 livelli più alti di noi Abbiamo fatto tanto danno anche a Lugia Xurkitree Si è un po' ricaricato la vita Va bene comunque Rivado ancora di una mossa Super efficace contro di lui E a questo punto Vado ancora di oltraggio Vediamo cosa riusciamo a fare Xurkitree è stato eliminato Rimane in campo Solamente lui Lugia Shadow Shiny Che è un Pokémon che voglio No ho sbagliato Un Pokémon che voglio assolutamente Vado di Ancient Power Vediamo se riusciamo a eliminarlo È eliminato Abbiamo Sconfitto Steph Vediamo cosa ci ha droppato Però il nostro amico 10.000 Poké Dollari Ghiratina Ha livellato al 96 Una Beast Ball E una Master Ball Qua abbiamo anche le Beast Ball Da poter prendere Quindi le prendo Uuuuh Quante ce ne ha droppate Ottimo E qua ci ha droppato Una PP Up Va bene Però calma tutti Perché qua c'è un God's Lord Che voglio assolutamente Andare a catturare con voi Ed è a livello 70 Non rischiamo di fare tanto Tanto danno A questo God's Lord Vado di qualche mossa Che è un po' di danno Io lo può fare Ma non troppo Tipo Earth Power E poi Dato che Steph E Kendal Mi hanno droppato Tantissime Beast Ball Provo Andare a catturarlo Di una Beast Ball Che è la Ball Fatta apposta Per l'Ultra Gatture Anche se lui è uscito Subito E dai God's Lord Sei la vita rossa Cosa vuoi in più Preso 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 Aveva fatto la Cement Hype Beast Che figata Ottimo Abbiamo catturato Anche la prima Ultracatura Della serie Sopravvivere 100 giorni Sopra un blocco Di Pokémon Pixelmon Su Minecraft Spero che questo video Vi sia piaciuto Nel prossimo Avremo tante altre sorprese Ci salutiamo E ci vediamo In un prossimo video Campioncini Ciao Ciao